buongiorno a tutti oggi faremo un piccolo lavoretto di decoupage questa è una parte retro di una cornice a vetro che si è rotto il vetro e l'avevo passato con dello smalto bianco spugnato non ho più usato perché non mi serviva più e adesso ne sto approfittando per facendo un recupero insomma recupero creativo e l'occorrente che mi serve sono appunto i colori acrilici a pennarello e un tovaiolo con questo caso dei splendidi uccellini e colla velinica infine un protettivo appunto per il decoupage opaco non brillante e niente per diluire la colla io non faccio un po a occhio non ne so proprio le quantità ma se volete dei tutorial più specifici su youtube ne è pieno o anche su google digitate decoupage e vi diranno esattamente il quantitativo della colla velinica in parti divisa con l'acqua io lo faccio molto a occhio quando vedo che è densa al punto giusto mi rendo conto che è perfetta all'uso e procedo nello stendere prima poi con la velinica sul piano di lavoro in questo caso questo quadruccio e poi divido prima il tovagoletto in due perché è quasi sempre fatto in due veli ad un velo solo e lo stendo piano piano in maniera molto molto delicata su questo quadruccio di legno cerco di spianare di levare tutte le pieghe possibili anche se poi tenderanno ad ad stendersi un momento o al momento dell'asciugatura recupero altri pezzi lo taglio con la forbice poi nel caso lo strapperò con le dita nei punti più focale in questo caso penso vada bene ho deciso di posizionarla un buccellino perché c'era un punto vuoto preparo anche per fare una piccola stappetta potere di tovaiolo così risulta anche molto più naturale e posizionano queste foglioline di lato poi l'eccesso verrà tolto piano piano con la mano viene inzuppato prima il tovagliolo e poi va via e si si leva con estrema facilità adesso prenderò ancora un rametto che lo posizionerò in alto a sinistra sempre uno strato di acqua e colla vinilica e stendo il tutto adesso volevo scrivere una frase motivazionale e che mi è piaciuta tantissimo e l'ho voluto scrivere appunto perché a me personalmente le frasi motivi motivazionali aiutano tantissimo e mi sembrava molto carino scriverlo in un disegno diciamo così fresco e così estivo adesso stendo una volta asciutto benissimo il tutto anche la penna dell'acrilico deve essere asciutto molto bene passerò questo fissante adesso stendo una volta asciutto benissimo un'altra volta asciutto benissimo poi lasciamo asciugare faccio un fiocchettino rosso in questo caso che metterò nel lato destro del quadrino e volevo mettere al centro un bottone sempre tono su tono andiamo alla ricerca del bottone lo abbiamo trovato e questo rosso piccolino adesso prendiamo il centro e lo dividiamo per due perfetto la misura totale lo dividiamo per due per avere il centro perfetto per attaccare appunto in questo caso un appendiquadro premiamo un pochino e lasciamo asciugare metterò per l'appunto il fiocchettino con il bottone tono su tono ed ecco fatto è terminato adesso appunto taglierò gli angoletti del fiocchetto ma bene o male anche questo recupero creativo è terminato era un pezzetto di legno se nemmo a vedere di poca di scarsa utilità ma così è risultato molto molto carino lo potete appendere in qualsiasi punto della casa e vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti Grazie per la visione!